E poi viene il momento, siamo nel padiglione di Nati per leggere dove le storie vengono lette insieme ai bambini e con i bambini. Io racconterò una storia di quello che si aspetta sempre, del presente e del futuro e farò scoprire loro come il futuro forse l'abbiamo già vissuto. Spero che i bambini siano pronti perché io sono pronto, è il momento, vado!